Due giorni di sciopero fra oggi e domani per tutti gli avvocati penalisti e per gli stessi magistrati, perché l'iter di approvazione della riforma Orlando è stata fermata a causa delle elezioni. Sono in gioco le misure alternative, che prevedono se chi ha commesso reati lo merita, in seguito a una valutazione caso per caso da parte del Tribunale di Sorveglianza, gli arresti domiciliari e altre forme di tutela al posto del carcere. La questione della sicurezza è stata trattata con particolare enfasi durante la campagna elettorale, quindi avvocati penalisti e magistrati temono che per assecondare richieste di tipo populista si riempiano le carceri al punto che, come dimostrano le statistiche, la riabilitazione diventi sempre più rara. Il carcere infatti spesso è criminogeno, chi entra invece di essere recuperato alla vita civile spesso peggiora. E così la presidente della Camera Penale, Maria Luisa Crotti, e il vice Alessio Romanelli, assieme all'avvocata Micol Parati, stamattina hanno tenuto una conferenza stampa in carcere a Cremona con l'autorizzazione della direttrice Maria Gabriella Lusi. Micol Parati ha spiegato che il 66% dei detenuti tornano a delinquere una volta usciti, mentre solo il 19% di chi ha ricevuto misure alternative commette nuovi reati. Riempire le carceri di detenuti non è affatto motivo di sicurezza. La detenzione ha costi tra i 120 e i 140 euro circa pro capite. E per abbattere le spese non si favorisce il lavoro nelle prigioni a scopo di autoconsumo e rieducazione. Nel frattempo le patrie galere tornano a riempirsi, con il rischio di futuri provvedimenti svuota carceri, ripetendo le criticabili esperienze del passato. Per concludere la riforma, però, occorre un nuovo governo entro il 3 agosto del 2018, dato che la riforma Orlando prevede la delega del Parlamento al governo per compiere più riforme dell'ordinamento penitenziario, con un anno a partire dal 3 agosto 2017. Il problema, poi, è che la bozza di uno dei decreti delegati è stata restituita dalla Commissione Giustizia al Senato, introducendo un cambiamento oggi contestato da tutte le Camere penali d'Italia. È stato infatti modificato l'articolo 45 bis dell'ordinamento penitenziario. Se la pena è inferiore ai tre anni, viene sospesa, a meno che non si tratti di detenuti molto pericolosi o di persone soggette all'articolo 4 bis, per cui la pena, anche se di sei mesi, non viene più sospesa, ma è eseguita con automatismi solitamente negativi per il condannato. Di conseguenza stanno aumentando rapidamente i detenuti. La pena deve rimanere certa, ma anche efficace, e attualmente non lo è, perché viene indicato il carcere come soluzione quando di fatto è criminogeno. Allo sciopero della Camera Penale di Cremona hanno aderito con uno sciopero della fame anche i radicali Ravelli, Ruggeri, De Rosa e Caracappa.